Cari fratelli, gli orizzonti hanno fondato una nuova religione, il giacobbismo. Si basa sugli insegnamenti di Giacobbo e della promulgazione dei misteri. Ci sono pochi precetti da seguire, ma fondamentali. Per essere giacobbista devi credere in tutti i misteri risolti e promulgati da Giacobbo. Per mistero intendiamo tutti quei fatti e luoghi avvolti nel mistero terreno, ma che Giacobbo, con il suo verbo, ci ha svelato attraverso Voyager, che è la nostra Bibbia. Per capirci, alcuni principali misteri svelati sono le piramidi sono state fatte dagli alieni, Renle e Chateau è stata costruita dai Templari, ci hanno nascosto il loro tesoro, le linee di Nazca sono opere alieni, eccetera, eccetera. 2. Almeno una volta nella vita devi entrare in un conicolo stretto e buio. Più lungo e stretto è, meglio è. 3. Devi far visita a un luogo misterioso dotandoti di un permesso speciale. Per ottenerlo ci vogliono anni di meditazione e pratica, ma alla fin fine ce la si fa. 4. Vedere tutte le puntate di Voyager, soprattutto a Natale e Pasqua. 5. Quindi, fedeli, ecco le principali linee e guida da seguire per essere un buon Giacobbista. 5. Quindi, fratelli, noi vi salutiamo alle prossime notizie e aggiornamenti riguardo a questa nuova religione e al nostro Sommo Giacobbo. 6. Salute a voi, fratelli, e che il mistero sia con voi. 7. Sommo Giacobbista.